Facciamo una sorpresa alla mamma? Sì, sì, nano. Cuciniamo noi. Ma ci sei mai stato nella Valle degli Orti? Certo. È lì che vengono scelte le verdure più belle per preparare un minestrone buono. Come questo. Mamma! Ciao! Che profumino! Minestrone della Valle degli Orti. L'amore per la terra dà solo buoni frutti. E da oggi, sulla confezione del minestrone della Valle degli Orti, troverai le istruzioni per ricevere in regalo queste due bellissime ciotole decorate. Grazie.